ciao ciao amiche ed amici benvenuti sul mio canale youtube bene ci ho pensato un pochino prima di prendere questa decisione e prima di fare questo video però ecco sono determinata a fare questa cosa è un po malincuore perché comunque mi è piaciuto quello che ho fatto fino adesso da 56 anni a questa parte ho condiviso con voi tanti video e questa passione per i lievitati per la vasta madre ed eccomi qua comunicarvi che mi prenderò una pausa una lunga pausa i motivi i motivi sono diciamo è un insieme di cose un insieme di cose che mi ha portato a prendere questa decisione e il canale sì il mio piccolo canale naturalmente non non è un canale di questi famosi cioè non sono non mi ritengo una maestra ecco anche se ricevo tanti complimenti da voi però sono sono una che ha iniziato per così quasi per gioco per divertimento ho aperto questo canale per così per divertirmi quindi non per guadagnare come oddio non è che sto dicendo che adesso i canali le persone famose giustamente guadagnano perché sono brave perché hanno tanti iscritti e tante visualizzazioni quindi per loro un lavoro per me no era un passatempo diciamo è un passatempo il mio canale raggiunto quasi dunque adesso siamo a 24 400 qui il mio computer è aperto 24 mila e 400 iscritti con 675 video ad oggi non è male per una come me per una semplice per una nonna non è male non è male però ecco ultimamente ho visto che ogni video che faccio dopo un mese due mesi si ferma intorno alle mille visualizzazioni e quindi se andiamo a vedere poi in quel piccolo guadagno che c'è una cosa talmente irrisoria che nemmeno la calcolo diciamo per per avere un canale per aumentare le visualizzazioni gli iscritti bisogna lavorare tanto cosa che io sinceramente non per tanti motivi non mi sento più di fare quindi dovrei avere una pagina dovrei avere un blog tante cose che non faccio ecco perché quindi è colpa mia se il canale non va avanti più di tanto non do la colpa a nessuno naturalmente e mi dispiace per per voi affezionati per quel gruppo che mi segue costantemente che mi manda messaggi commenti che mi fa mi fa tantissimo piacere naturalmente però ho preso questa decisione quindi quindi il canale rimane aperto se voi volete potete continuare a seguire i tantissimi video che ho specialmente quelli sui levitati e se posso rispondo quindi potete commentare tranquillamente come avete sempre fatto e non lo so ecco adesso mi fermo e poi vediamo vediamo magari più in là può darsi pure che riprendo se non mi chiudo nel canale se youtube non mi chiude il canale bene mi sto anche emozionando quindi la finisco qua vi mando un forte abbraccio a tutti un bacio e chissà magari ci sentiamo più in là ciao ciao a tutti